Il baccalà con i fagioli e i cannellini e la camomilla. La realizzazione è che abbiamo cotto i cannellini con il baccalà, li abbiamo mantecati con un po' di olio d'oliva e camomilla e viene finito poi con del baccalà cotto all'olio d'oliva e camomilla e un beurre blu alla camomilla.